quando esce il concorso potresti darmi dei consigli per mia figlia vuole entrare in polizia di stato allora per preparare tua figlia al concorso per entrare nella polizia di stato ecco alcuni consigli numero uno chiaramente requisiti diciamo di età e fisici in generale quindi generalmente 18 26 anni non compiuti il titolo di studio molto importante quindi la scuola superiore secondo grado e poi la cittadinanza italiana insomma altri requisiti proprio burocratici inoltre cosa molto importante alla preparazione fisica proprio per superare i test diciamo le prove fisiche mi raccomando prepararsi alle prove fisiche che possono includere corsa salto in alto piegamenti sulle braccia eccetera è importantissimo quindi bisogna fare un allenamento regolare seguire un programma di allenamento è ancora meglio un preparatore atletico anche per quello poi la preparazione teorica le prove scritte quindi diciamo materiale di studio sul diritto cultura generale logica matematica aritmetica storia geografia praticamente tutto manuali di preparazione quindi mi raccomando molto ottimi e poi le simulazioni delle prove ad esempio quiz online quindi esercitarsi con quiz online e simulazioni di test scritti sarebbe proprio auspicabile quindi gruppi di studio molto interessanti noi sempre volmente programma abbiamo proprio i gruppi specifici di studio ma adesso che te ne parlo infine poi le prove psichettionali quindi anche lì test psicologici e colloqui sono molto importanti quindi prepararsi sia i test di personalità che i colloqui psicologici facendo anche delle simulazioni del colloquio per fare proprio introspezione esplicitare meglio le proprie capacità poi la documentazione quindi bisogna fare proprio un controllo dei documenti per assicurarsi di avere tutti i documenti necessari pronti e in regola come certificati dichiarazioni eccetera poi aggiornamento sui bandi quindi monitoraggio costante tenendo d'occhio anche questa pagina o i siti ufficiali meglio ancora dell'istituzione così siamo al sicuro e poi iscriversi al newsletter e canali informativi appunto come questo quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per rimanere aggiornato sul concorso e prove inoltre anche sostenere diciamo un'ottima motivazione quindi mantenere alta la motivazione per questo tipo di concorso dato che sono tante le prove e pianificare proprio creare diciamo un piano di studi di allenamento dettagliato e rispettarlo chiaramente inoltre sono molto diciamo utili anche da alcune risorse anche online come videocorsi in generale libri manuali applicazioni eventualmente ora se ti è diciamo servita questa informazione mi raccomando se hai ulteriori domande fammi pure attraverso i commenti qui sotto spero che questa risposta ti sia stato utile insomma ne parlerai anche con tua figlia se hai bisogno di ulteriori informazioni mi raccomando commenta qui sotto scrivici in privato così ti forniamo ulteriori informazioni per quello che possiamo io sono alvaro torino mi occupo di preparazione psichiatrinale ma anche di preparazione quiz attraverso il mental program dove forniamo proprio un materiale didattico un corso di memorizzazione strategico e anche divertente che poi la ragione per la quale i ragazzi dopo tanto tempo si diciamo ricordano ancora le risposte quiz attraverso appunto il mio collaboratore che il tecnico della memorizzazione e la tutora che la dottore sasone quindi se siete interessati per questo tipo di concorso ancora abbiamo il gruppo di studi attivo potete prenotare una chiamata gratuita attraverso il link biografia a presto e buona preparazione